Sì, sono due momenti nei quali la città rievoca la sua storia. La settimana rinascimentale che riguarda in particolare il centro storico di Cava che si è sviluppato appunto nel Rinascimento e la festa medievale che invece ricorda la nostra origine perché la città di Cava nasce intorno all'abbazia benedettina e dunque nasce come centro medievale, come il suo corpo originario, il corpo di Cava è sicuramente questa datazione storica. E' una bella iniziativa che viene ancora sostenuta con grande entusiasmo dalla nostra amministrazione, dall'azienda di soggiorno appoggiata fortemente dal nostro padre Abbate e della comunità monastica che in qualche modo consente di veramente un tuffo nel passato. La cosa più bella è che tutta un'intera comunità, la comunità di Corpo di Cava, si presta, professionisti, giovani, mamma e madri di famiglia, si prestano vestendo i costumi d'epoca e organizzando queste due serate che ormai sono diventate serate cult. Perché da tutta la regione Campania vi sono persone che ritornano per rivivere questa stagione che è andata. Una bella opportunità per la nostra città di visibilità per cui invito tutti i cittadini come sempre a non mancare a questo appuntamento.